Tutti almeno una volta abbiamo sentito parlare di qualcuno a cui è stata rimossa l'appendicite. Ma cos'è questa strana cosa? Perché è così inutile? Perché deve essere rimossa prima che esploda e mi faccia fuori? Procediamo con calma. Per prima cosa, un po' di chiarezza. L'appendicite non è una parte anatomica, bensì una patologia, e, come regola generale, il suffisso "-ite", in una parola, indica un'infiammazione a carico dell'organo che costituisce il prefisso della stessa. Quindi, appendicite indica un'infiammazione o flogosi per quelli di voi a cui piacciono i paroloni, a carico, beh, dell'appendice. Ma cos'è esattamente questa roba? Vedete, il nostro intestino è diviso in due parti. L'intestino tenue, suddiviso in duodeno, digiuno ed ileo, che si continua nell'intestino crasso attraverso, avete indovinato, la valvola eleocecale. Punti bonus per la fantasia. Il crasso è posizionato nell'addome come una sorta di cornice, nel punto in cui si congiunge con l'intestino tenue e prende il nome di cieco, proprio perché, come un vicolo cieco, non si continua verso il basso. O forse no. Nella parte terminale del cieco è possibile, infatti, identificare una protuberanza, in media lunga 5-10 cm, che origina dalla convergenza delle tre tenie intestinali. Non quelle tenie vermose che alcuni squilibrati si fanno impiantare per dimagrire senza fare la dieta, ma a fasci di fibre muscolari lisce tipiche del colon, che si riuniscono fondendosi con la muscolatura longitudinale di tale protuberanza. Questi, cari miei, è l'appendice. La struttura di base dell'appendice è molto simile a quella dell'intestino crasso, entrambi, infatti, possiedono una parete costituita da diversi strati o tonache. Mucosa è la parte più interna, a contatto con il lume dell'organo interessato, nel caso dell'intestino responsabile dell'assorbimento dei nutrienti, a cui sotto troviamo, beh, la sottomucosa. Questa è costituita da un materiale acquoso detto interstizio, in cui decorrono i vasi sanguigni e i nervi necessari per il funzionamento dell'organo, muovendosi a livello inferiore... Scusate. A livello inferiore troviamo invece la tonaca muscolare, che garantisce la motilità dell'organo, per i stalsi, nel caso dell'apparato digerente. Infine si trova la tonaca sierosa, costituita da un tessuto connettivo e resistente, che riveste l'organo e ne permette l'adesione alle strutture circostanti. Ok, finora abbiamo parlato di come l'appendice sia simile all'intestino, ma cosa la rende così prona ad infiammarsi? Abbiamo detto che nella sottomucosa si trovano diverse strutture fondamentali al funzionamento dell'organo. Tra queste si identifica un particolare tipo di tessuto definito MALT, ovvero Mucos Associated Linfoid Tissue, per i non anglofoni, tessuto linfoide associato alle mucose. Questo tipo di tessuto è strettamente associato al sistema linfatico, il quale sorge diverse funzioni fondamentali, tra cui comunque spicca la risposta immunitaria, ed è proprio a questo giocare un ruolo chiave nell'appendicite. L'appendice, infatti, è continuamente esposta al materiale proveniente dall'intestino, il chilo, che a questo livello ha una consistenza molto acquosa. Generalmente tale materiale entra nell'appendice, entra a contatto con il MALT e quest'ultimo neutralizzerà eventuali patogeni. A questo punto la muscolatura dell'appendice si contrae ed espelle il chilo che prenderà la via dell'intestino crasso. In alcuni casi, però, una ridotta dimensione del lume può impedire l'espulsione di tale materiale infetto. Questo, quindi, provocherà una stimolazione continua del MALT che determinerà in la comparsa di uno stato infiammatorio che, avrete indovinato, prende il nome di appendicite. Questa, come buona parte dei processi infiammatori, causerà un'espansione della parte interessata e, naturalmente, stimolazione nervosa con sensazione dolorifica molto intensa, che si presenta come un dolore lacerante nel quadrante addominale inferiore destro. Tale dolore risulta particolarmente accentuato dall'improvviso rilascio in seguito a compressione del punto di McBurney, un punto situato nel terzo distale tra la spina elieca anteriore destra e l'ombelico. Questo, denominato segno di Blumberg, è uno dei metodi più semplici ed esatti per identificare un'eventuale appendicite. Ah, come ormai mi aspetterete dalla pratica medica, le cose non sono sempre così semplici. L'appendicite, infatti, normalmente è diretta verso il basso, inferiormente rispetto al cieco, e darà in caso di infiammazione la classica stimolazione dolorifica. In alcuni casi, però, può flettersi all'indietro e posizionarsi dietro il cieco. Qualora si infiammasse in questa posizione, la stimolazione delle strutture circostanti causerà dolorabilità nel quadrante superiore destro dell'addome, dove potrebbe essere scambiata per una colla cabiliare. Ovviamente. Va bene, però, come si passa da una semplice infiammazione simile a quella che segue una ferita superficiale ad una rottura completa dell'organo che mette in pericolo la vita? Molto facilmente, in realtà. L'appendice è errorata nella sua parte terminale dall'arteria appendicolare. In caso di flogosi e quindi di gonfiore, tale arteria può venire occlusa. Questo causa una forte ischemia nella parete appendicolare, che, se perdura nel tempo, può causare una perforazione dell'appendice infiammata. Ciò causerà il riversamento di materiale infetto all'interno del cavo peritoneale. con la comparsa di una, provate a indovinare, peritonite, che, se non trattata tempestivamente, può portare al decesso del paziente. Per questo motivo, è fondamentale individuarla subito in modo da poterla operare con un'appendicectomia, operazione che, se eseguite in maniera tempestiva, è estremamente semplice e non ha nessun effetto o contraindicazione a lungo termine. E anche per oggi abbiamo concluso. Spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, e questo mi dice che sto facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi di seguirci anche su Facebook e Instagram e, se vi piacciono i nostri design, potete trovare queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi. Alla prossima!